bentornati su my football jersey oggi vediamo una maglia che avevamo già visto in versione fan trovate qui in alto la recensione una maglia speciale del manchester city per il nuovo anno cinese questa volta in edizione player iscriviti al canale la maglia molto bella nella mia classifica questa prende 4 stelle devo dire che mi piace di più che non la versione fan che avevamo già visto molto belli materiali e molto bello questo contrasto dell'oro sui polsini il costo lo vedete qui sopra bassissimo per una maglia con questa qualità e con questi tempi di spedizione questa è arrivata in 18 giorni vi ricordo che in descrizione qua sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia andate sul sito a vedere questa e altre bellissime offerte che vi attendono ora vi lascio alla parte finale quindi metteteci un grande like e iscrivetevi al canale vi ricordo che è l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni per oggi è tutto ci vediamo alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia large della versione player io sono alto un po' di spedizione